Allora, oggi comincerei con il dollaro che prosegue nella sua corsa verso l'alto, sostenuto dall'aumento dei famosi rendimenti del decennale, da voci di aumento delle entrate per le casse dello Stato, la Yellen ha fatto delle dichiarazioni, insomma forza relativa del dollaro più un bel po' di ricoperture probabilmente vista l'impostazione fondamentalmente short, guardate la media 200 che scende, questo è il grafico daily, quindi questa forza del dollaro ha mandato a piccola euro che si sta dirigendo verso area 1,16 e ha mandato invece nella ionosfera il DAX che con un altro gap, e questo è il secondo nel giro di pochi giorni, è andato finalmente a toccare fatidica quota 15.000 uscendo dal canale di regressione. Allora, faccio notare che questi gap di questi giorni potrebbero essere i gap di esaurimento di un movimento molto lungo iniziato alla fine di ottobre, generalmente una fase di rialzo completa presenta secondo l'analisi tecnica classica tre gap, un gap di fuga, quello che abbiamo visto nella giornata del 6 novembre, un gap di continuazione che potrebbe essere questo della giornata del 28 dicembre che poi è stato testato e anche abbastanza pesantemente il 28 gennaio, e il terzo gap di esaurimento, anche se qui ne ha fatti due, ma probabilmente questo è anche dovuto a fenomeni di scoperto che probabilmente c'erano su certi livelli e come vi dicevo anche la forza del dollaro, la debolezza dell'euro che favorisce in particolare le economie esportatrici come quella tedesca, il nostro Fuzzi Mib segue un po' a distanza, più 0,8, l'America che ha già chiuso è tutta rossa, a parte il Russell, il DVM che segna un più 1,6 dopo la debacle di ieri, quasi meno 3%. Quello che mi preoccupa, oltre appunto al fatto dei tre gap, vi volevo far vedere che lo stesso schema si è in qualche modo verificato in occasione del rialzo che c'è stato dal marzo del 2020 fino a giugno, anche qui si possono vedere bene i tre gap classici, il primo gap di fuga che porta alla rottura della volatility stop line sul daily, il secondo gap di continuazione dopo il test della volatility stop line e poi il gap di esaurimento, però il gap di esaurimento anche qui, attenzione perché il gap di esaurimento significa stop per iniziare una fase parabolica, non sappiamo dove può finire, quindi non fraintendete quello che vi sto dicendo, semplicemente sono segnali di prudenza, quelli che abbiamo visto nei giorni scorsi in altre forme che siano le divergenze, che siano la scarsità dei volumi, cioè normalmente i segnali sono diversi, non c'è un segnale univoco, bisogna cercare di combinare sempre tutti i messaggi che ci dà il mercato in varie forme. Ebbene il gap di esaurimento, ammesso che questo lo sia, significa che inizia una fase parabolica, non significa che da qui inizia Armageddon e poi anche quando dovesse iniziare la fase parabolica dobbiamo vedere A dove si ferma e B quanto poi ci mette eventualmente a rigirarsi perché non è detto che poi non inizi una fase laterale di distribuzione. Ok? Quindi bisogna capire bene il contesto però allo stesso tempo non affrettarsi a prendere posizioni che possono rivelarsi molto pericolose. Quindi approfitto per mostrare un grafico che mi ha inviato un amico che appunto segnalava che secondo la tecnica di GAN in questo momento su 15.000 dove sono adesso sul grafico mensile il DAX sarebbe in presenza di una resistenza molto importante data da questa linea appunto di GAN, del ventaglio di GAN. Allora premetto che io non conosco bene la tecnica di GAN, l'analisi tecnica ha diverse linee diciamo di pensiero e diverse scuole e ognuno sceglie quella che gli si addice meglio. Io ho massimo rispetto per tutte, il GAN è molto rispettabile come scuola, come linea di pensiero e non la conosco quindi io generalmente tendo a parlare di quello che conosco e non di quello che non conosco. Quindi fatta questa premessa però posso dire all'amico appunto accodandomi al pensiero di prima che il fatto che si sia toccato un livello dove in passato i prezzi sono stati respinti oppure supportati come in questo periodo qui del 2018 non significa che da qui, primo che non possa in realtà superarlo e romperlo e secondo non vuol dire che da qui domani mattina parte il ribasso. L'esempio qual è? L'esempio è proprio quello, nello stesso grafico qui mostrato fine 2019, inizi 2020 vedete quante volte è stata toccata la linea di resistenza prima poi di cedere e la stessa cosa qui, quante volte è stata toccata la linea di supporto prima di bucarla. Ok? Quindi è giusto sapere dove ci si trova e attenzione a prendere posizioni che possono poi appunto come vi dicevo rivelarsi pericolose perché se uno dice qui il trend si sta esaurendo mi metto short poi questo prende altri mille punti e capite non sono situazioni quindi queste sono considerazioni che poi vanno gestite in un certo modo quindi comunque il mio messaggio è appunto quello di stare attenti a queste situazioni appunto a capire i contesti, una cosa che sicuramente non farei in questi casi è mettermi a inseguire. Ecco, quindi lo sapete perché insomma chi segue sa che queste sono cose che abbiamo detto più volte nelle fasi paraboliche evitare di inseguire. Va bene, il resto adesso non stiamo a vedere tutti i vari grafici l'America è qui che è in bambola, mostro un grafico per tutti il Nasdaq parla da solo questo grafico e qua sospeso che dice da che parte si domanda da che parte devo andare perché dopo aver testato la resistenza tentato di scendere e lì sospeso a mezz'aria perché c'è una situazione che in effetti tra aumento dei tassi e dichiarazioni di aumento delle tasse di cui probabilmente saranno anche le tasse sulle aziende quindi sono situazioni che non sono propriamente favorevoli all'equity quindi ecco questo è anche un'altra cosa che mi preoccupa perché un'eventuale correzione più profonda dell'America non sono sicuro di vedere gli indici europei che invece continuano al galoppo come stanno andando. Ok, sarebbe la prima volta che lo vedo ecco per cui ecco attenzione vedremo nei prossimi giorni i livelli chiave quello che notiamo dal grafico del Nasdaq è che comunque in perterriti qui continuano a comprare i dip, vedete tutti questi wick, tutti questi piccoli hammer su certi livelli ma anche oggi sui ribassi c'è gente che continua a comprare questo è stato lo sport dell'ultimo anno quindi questo è un ulteriore motivo di preoccupazione nel momento in cui dovesse esserci uno storno più violento e che quindi tutte queste posizioni che fine fanno andranno a alimentare le vendite non lo sappiamo quindi ecco questo per chiudere un po' la panoramica chiaramente oggi tra i rendimenti del decennale e la forza del dollaro sono andati giù tutte materie prime commodities preziosi dal rame, argento, oro, petrolio quindi ora non andiamo a vedere nei dettagli perché non abbiamo il tempo vado subito alle richieste per oggi un amico mi chiedeva di NIO azienda, veicoli elettrici, mercato cinese, grandi aspettative, quota 20 volte il fatturato quindi assolutamente sopravvalutata per quello che riguarda i fondamentali quindi sconta un sacco di belle cose del futuro tutte però da vedere se si realizzeranno quindi questi sono titoli molto speculativi chissà chi segue sa che ne abbiamo parlato tante volte possono salire tanto, possono scendere tanto questa da 10 è arrivata a 60, da 60 è tornata a 30 ne avevamo parlato qui esattamente era questa candela, un giorno era il 17 febbraio chi vuole può andarsi a rivedere il video avevo detto che appunto l'impostazione era positiva ma di stare molto attenti ai supporti dati dalla volatility stop line perché la violazione della volatility stop line dopo un trend così maturo avrebbe cambiato lo scenario io non seguo NIO, la sto rivedendo oggi perché l'amico l'ha riproposta dopo qualche mese è esattamente quello che è successo ma questo non perché ho la palla ma perché i livelli tecnici hanno sotto un presupposto di mercato, di persone che comprano, che vendono di posizioni che vanno chiuse quindi quando dopo un trend così lungo inizia una fase di presa di profitto importante ecco vedete poi qua da manuale rottura della volatility stop line rimbalzo, test la ritocca e riparte verso giù allora per farla breve siamo sulla media 200 che sale un'ulteriore fascia di supporto ma non è detto che non si possa anche andare più in basso il supporto successivo è in area 26 perché non è detto che non si possa andare più in basso perché comunque la struttura sul daily è negativa con un momentum abbastanza elevato quindi con un livelli di indicatore abbastanza alti vedete il DMI minus con livelli che non raggiungeva da tanto tempo è in una fase adesso di ritest di questi supporti però attenzione perché non sappiamo se qui questa fase di storno è finita certo tra qui e 26 mi sembra che supporti importanti ce ne siano però considerando il titolo speculativo non possiamo garantire la loro tenuta Moncler, altra richiesta anche qui impostazione costruttiva ultimamente ha avuto bisogno di ritornare spesso sui supporti prima di ripartire verso l'alto di fatto siamo oggi agli stessi livelli di dicembre quindi una fase di consolidamento abbastanza lunga i supporti in area 47 hanno tenuto anche questa volta quindi attenzione nei prossimi giorni a questi livelli perché comunque la media 200 è abbastanza distante quindi anche in questo caso un eventuale cedimento di 47 potrebbe essere appunto foriero di ulteriori movimenti verso il basso Azimut un po' meglio perché abbiamo visto che è una struttura verso l'alto con minimi crescenti, massimi crescenti è una buona impostazione generale adesso chiaramente sta per andare come tanti titoli del nostro listino verso i famosi ghepponi che si sono aperti a febbraio del 2020 e la resistenza importante ce l'ha a 22 Azimut già ci ha sbattuto 3-4 volte sembra che stia andando a riprovarci dopo la tenuta di area 18 e 7 quindi anche qui attenzione a questi livelli siamo per molti titoli in questa situazione dopo, perché comunque ovviamente gli indici sono fatti dai titoli quindi vedete che ce ne sono tanti in questa situazione con un uptrend iniziato grosso modo alla fine di ottobre vi ricorderete con l'ampio movimento a rialzo post elezioni americane e annuncio dei vaccini questa è stata la gamba che ha dato l'impulso e il via a tutto il movimento che stiamo ancora al quale stiamo ancora assistendo va bene, siamo a 14 minuti di video fra poco sforiamo per cui finisco qui grazie dell'attenzione ci aggiorniamo a domani lasciatemi come sempre i commenti i like gli amici di youtube che continuano a seguire ringrazio anche loro e appunto ci aggiorniamo a domani buona serata a tutti grazie grazie grazie